Oggi un piatto speciale. Cosa facciamo di buono? Oggi facciamo i gamberoni con avocados. Abbiamo già preparato l'avocado a pezzettini? Sì, cipolla, aglio, pomodorini, gamberoni e presemolo, sale, semplicissimo. Adesso mettiamo olio. Olio extravergine di oliva. Ecco qua che procediamo. Facciamo rosolare. Olio, olio, cipolla, aglio. Ma sì, ma siamo quasi in diretta, quindi errori se ne possono fare di parlare. L'importante è capire bene quello che facciamo per chi vuole fare questa ricetta un po' esotica fatta con gamberoni e avocados tagliati a pezzettini. Facciamo rosolare bene. Tottoriamo e giriamo. L'aglio l'abbiamo lasciato intero. Comunque è semplicissima la ricetta. Adesso che aggiungiamo? Adesso mettiamo i pomodorini. Questi sono pomodorini nostri che li abbiamo coltivati nel nostro orto e poi surgelati. e quindi quando ce ne servono li prendiamo sugli gelati e li utilizziamo come se fossero freschi. Mettiamo avocado e pezzettini. Facciamo cuocere un po'. Perché i gamberoni e subito diventa cotta, no? Quindi la cottura c'è ne pochi minuti. Prima facciamo cuocere i pomodorini con l'avocado. Quindi adesso bisogna, quanto tempo ci vuole? Cinque minuti. Cinque minuti. Allora lasciamo che il fuoco fa il suo mestiere e ci vediamo tra un cinque minuti. Adesso, hai visto che un pochino comincia a cuocere meglio, no? Più morbido avvocados. Adesso mettiamo il gamberone. Che buon profumo. Ci stanno molto bene eh? Avvocados con gamberoni, con i pomodorini. La ricetta è molto semplice. È semplicissimo. Mettiamo sale. Ci mette anche vino bianco, se ti piace. Ancora più buono. Noi non ce lo mettiamo? No. Noi no. Noi facciamo più semplice. Senza vino. Mettiamo anche pressemolo. Che bel colore. Ci vediamo dopo. Va bene. Allora facciamo cuocere lentamente e poi quando è pronta la pasta da mischiare insieme continuiamo con il video. Ok. Tutto pronto? Sì. Abbiamo scolato le nostre taglioline. Le buttiamo? Vai. Facciamo amalgamare bene bene. Si deve insaporire. Guarda che meraviglia che sapori. sapori orientali a tavola. Ah vabbè c'è l'avocado ci sta. Sapori orientali. Sapori orientali. Sapori orientali. I gamberoni? I gamberoni. E di tutti. I gamberoni non sono mica che vengono dall'Italia. e sono i gamberoni sorgelati dall'Argentina. Allora siamo in tre continenti. Italia, Argentina. E la Thailandia. E la Thailandia. La Thailandia ci mette avocado. Ok. Ora mettiamo nel piatto. Opa. Mettiamo un altro gamberone? Un altro gamberone. E vabbè un altro basta dai. Un altro basta dai. Bene. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al nostro canale Pencoleo. E buon appetito da Pencoleo e da... Ciao ciao. Ciao ciao.